Visita a sorpresa per la città di Agropoli dell'ex premier Conte. L'ex presidente del consiglio è stato ad Agropoli nella giornata di ieri per presenziare ai funerali dell'ex suocero Nico Fico, ex giudice di Cassazione residente nel centro storico agropolese. I funerali si sono svolti nel pomeriggio presso la chiesa Madonna delle Grazie alla presenza del parroco Don Bruno Lancuba. Tanti cittadini che lo hanno accolto con grande entusiasmo nella centralissima piazza Vittorio Veneto, l'ex premier si è soffermato a bere un caffè presso lo storico Baranna e lì non sono mancati tanti selfie con turisti e cittadini del posto. Anche il sindaco Adamo Coppola si è intrattenuto per uno scambio di vedute sul momento politico attuale con la promessa da parte di Conte di fare ritorno ad Agropoli per confrontarsi su tematiche anche locali in vista del rilancio del Movimento 5 Stelle.